Musica Io sono un ex studente di conservatorio non modello, nel senso che ho studiato a Chiumini di Firenze con un maestro napoletano molto severo, che usava la bacchetta, anche se non si vede quando suono, usava la bacchetta sulle dita, quindi era molto severo sulla tecnica e su tante altre cose. Ho avuto la fortuna di studiare molto con lui, nel senso che faceva lezioni fiume, per cui io arrivavo a casa e potevo dedicarmi a tutt'altro, quindi studiavo jazz, andavo a suonare nei gruppi, eccetera. di nascosto, per cui all'epoca il jazz era proprio ostracizzato, specialmente a Firenze, per cui io sono stato scoperto solo all'anno del diploma e ho rischiato anche, perché un mio insegnante mi ha chiesto di suonare di un brano a due giorni del diploma, e ho ottenuto che non si presentasse al diploma, mi sembra una storia del 1800, invece era una cruda verità, poi è andata bene, in realtà, il forte prezzo a lui è piaciuto, è stato zitto, e adesso io, forse l'ho molto sottovalutato, adesso viene sentito e è molto contento, per cui forse ho sbagliato io, ma non credo, io penso che D'Alievo, lui preferisse immaginarmi come D'Alievo Modello, e adesso che sono un po' dei piaciuto maestro, come posso fare con D'Alievo Modello. D'Alievo Modello La mia orribile esperienza era che quando noi studiavamo a quattro mani, io ne ho detto le beve sulle tour, che era un pezzo di D'Alievo Modello, è entrato un insegnante, ci voleva far smettere, ha detto che la musicaccia, la saluna e la cabaret, ci usavamo ancora questi termini, che quindi dovevamo smettere che si facevano i cassini, eccetera, e per fortuna eravamo lo spartito, c'è scritto edizione tournante, D'Alievo Modello, e lui ha conosciuto il nome e ha detto, va bene, non potete continuare, altrimenti non ci avrebbe fatto continuare perché il pezzo fosseva così, che probabilmente era troppo leggero, più o meno maggiore. Lui mi ha spaccato la porta e ha detto, questa è una cosa che mi ha detto, la musica di Lecce, eccetera, eccetera, e poi se ne è andata con un video, in un altro momento stava suonando Tic Tic Tic, ma non aveva la parte, quando il direttore l'ha fatto fermare, mi ha detto, questo è Stravinsky, eh, Stravinsky, lei mi parla anche! è centi del genere e il nostro territorio, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti